Musica Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News Ma per iniziare se non siete ancora iscritti iscrivetevi con la campanellina, lasciate un bel like, condividete questo video con i vostri amici E mi raccomando seguitemi anche su Twitch CecchinatoTV trattino basso, mi raccomando lasciateli un bel follow E detto questo nel video di oggi ragazzi parleremo innanzitutto di tantissime ricompense che potremo ottenere gratis Innanzitutto per quanto riguarda ovviamente sia le FNCS sia le ricompense per Neymar Ma poi ovviamente parleremo anche di nuovissimi leak per la stagione 6 e la tanto attesa Fortnite Crew finalmente svelata di maggio Che ha tantissime ricompense anche quella Iniziamo innanzitutto con la prima news che riguarda ragazzi più che altro una curiosità Infatti dalla patch 16.20 non so se l'avete notato, veramente molto difficile perché è veramente un dettaglio che forse neanche ve ne accorgete Ma dalla 16.20 l'orologio che come sapete era quello del vecchissimo capitolo dove c'era la torre di Pinnacoli Adesso le lancette si muovono a differenza di prima che erano stabilizzate in un'ora Questa era giusto una curiosità, non si sa se è collegato a qualcosa ma comunque era una cosa che vi volevo far vedere Sappiate che adesso insomma queste lancette si muovono, non si sa il perché abbiano voluto comunque modificare questa cosa Altra news poi ragazzi riguarda soprattutto Major Laser perché infatti sembrerebbe che a breve potremmo avere Una nuovissima variante per questa skin e non solo, anche per il piccone, tema viola, molto molto carina come variante E lo capiamo dal fatto che Major Laser, il produttore anzi di Major Laser ha commentato in un post concept Dicendo possiamo vedere che potrebbe diventare reale questo concept Quindi chi lo sa che magari con la prossima patch che ci sarà per l'appunto proprio domani non possano aggiungere questa nuovissima variante Parlando infatti proprio di patch 16.30 ragazzi sappiamo ovviamente che arriverà domani Quindi alla mattina ovviamente inizieranno a mettere i server offline a partire dalle 9, sì alle 9 circa Poi alle 10 inizieranno ad uscire tutti i leak e poi alle 11, 11 e mezza dovrebbero essere di nuovo disponibili i server Ovviamente patch importantissima perché arriveranno ovviamente le sfide di Neymar Che adesso andiamo a vedere insieme a tutto il suo full set che è stato svelato Quindi potremmo iniziare a riscattarlo tutto quanto da domani da partire però dalle 16 se non erro O forse sarà subito già disponibile e da vedere questo E poi ragazzi ovviamente verrà decriptata anche la nuova crew di Fortnite Che sappiamo anche quella già in anteprima, tranquilli ora ve la faccio vedere E poi nuovissime skin e leak sicuramente che arriveranno presto Infatti la crew di Fortnite ragazzi è già stata svelata in realtà da pochissimi minuti Infatti come possiamo vedere questa è tutta la crew completa di Fortnite Ed è una delle crew veramente più succulenti se così possiamo dire Perché ha tantissime ricompense Questa volta a differenza secondo me delle altre volte vale veramente la pena acquistare finalmente una crew di Fortnite Ricordo che costa 12 euro al mese Ma questa come possiamo vedere ecco tutte le ricompense Quindi c'ha la skin Due picconi con due varianti Entrambe Poi ha una copertura armi, ha una schermata di caricamento A salva al mondo pure che potrete utilizzare ovviamente sia la skin su Fortnite Ma ci sarà anche le eroe proprio su salva al mondo E poi ovviamente pass battaglia incluso E 1000 V-Bucks E non sono finite qui le ricompense Perché sembrerebbe che secondo quello che c'è scritto proprio sul sito ufficiale di Fortnite Ogni giovedì tutti i possessori di Fortnite crew potranno ricevere un bonus speciale Quindi non si sa cosa potrebbero essere benissimo skin o picconi esclusivi tramite delle sfide Un premio magari come lo è stato Spotify Non lo so però riceveremo probabilmente ogni giovedì una piccola o grande Chi lo sa ricompensa dalla Fortnite crew di maggio Quindi insomma veramente una crew tanta roba Soprattutto per quanto riguarda l'intero bundle Che comunque rispetto agli altri secondo me è il migliore Veramente fatta benissimo come skin mi piace veramente molto molto Ma adesso passiamo a Neymar Perché infatti domani sarà disponibile il full set Con tutte le ricompense che possiamo vedere qui alla mia destra Come possiamo vedere il bundle comprende la skin di Neymar Con due... no tre varianti scusate Una normale con la sua maglietta nera E poi abbiamo una specie di mostro versione Neymar Eccolo qua con due varianti disponibili Che in realtà è un emote credo integrata Quello per quanto riguarda insomma il mega mostro E poi abbiamo ovviamente due backpack Credo che sono una coppa e un pallone E poi abbiamo un piccone con due varianti Un deltaplano anche questo con due varianti E poi una schermata di caricamento Tutte queste ricompense sbloccabili da partire da domani Per tutti i possessori del pass battaglia Ma la collaborazione tra Fortnite e Neymar non finisce qui ragazzi Perché infatti avremo anche un suo torneo Con in premio ragazzi la possibilità di vincere una scarpa da calcio Progettata su misura Ispirata alla forma originale di Neymar Junior Quindi insomma ci sarà questo regalo Non so mi sembra solo per chi vince Torneo comunque disponibile dal 28 aprile Andiamo anche a vedere le sfide di Neymar Che saranno disponibili domani Le abbiamo in anteprima Ecole qua come possiamo vedere C'è la sfida ad esempio per sbloccare il piccone Colpo del Jaguaro Che praticamente la completerete Segnando un gol con il giocattolo Pallone da calcio di Neymar Credo che per queste sfide Farò dei video dedicati Perché non sono molto semplici Poi abbiamo elimine attraversari come Neymar Junior Questo dovrete aver già sbloccato Insomma la skin E poi insomma queste altre sfide Parla un calciatore sull'isola Quindi ci sarà l'NPC del calciatore Completa 3 incarichi dai calciatori sull'isola Completa 5 incarichi dai calciatori sull'isola Calcia al volo Il giocattolo pallone da calcio Come Neymar per 500 metri Insomma diverse sfide Con le quali potrete prendere il full set E sembrerebbe ragazzi A quanto sto vedendo A quanto io ho capito Che queste due cose Allora innanzitutto il pallone a destra E di Neymar Quindi verrà dato gratis ai possessori del pass battaglia Ma quella a sinistra Sembrerebbe da quello che ho capito Poi correggetemi Che lo potremmo ottenere Tramite delle sfide Magari completando le sfide Della prossima settimana Che arriveranno giovedì E questo pallone normale Lì alla sinistra Potranno ottenerlo tutti Quindi sarà un backpack Magari o uno stile Aggiuntivo in più Da quello che ho capito Detto questo per il video di oggi è tutto ragazzi Queste erano tutte le mega ricompense La Fortnite Crew Tantissime news Che spero che vi abbiano fatto piacere Oggi niente Ovviamente video previsione Perché di base non cambia nulla È uguale a ieri Ovviamente però domani tranquilli Lo vedremo tornare Noi ci vediamo dopo In live su Twitch Mi raccomando Fateci un salto Bella Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo